eccoci qua ciao a tutti siamo qua di nuovo con la nostra cartomante ritualista venus ciao venus a massimo del che ho la sua pagina facebook cartomante venus e la pagina instagram venus cartomante andate perché le messe in un modo uno all'inverso dell'altro il verso l'inverso bene sono qua con venus che quindi potete contattarla sulla sua pagina instagram pagina facebook ma oggi è qua perché farà un interattivo un interattivo e vabbè intanto se ti presenti per chi ancora non ti conosce brevemente poi ci racconti che interattivo farai perché lei oltre essere ritualista di magia afro brasiliana voodoo umbanda kimbanda santeria candomblé si occupa anche di tarologia di tarocchi insomma in un modo particolare che io non conosco ancora sono curioso di vedere insomma ciao venus presenta ti dici qualcosa di te poi dici che cosa ci farai oggi grazie massimo allora come già hai detto tu io mi occupo di magia afro brasiliana di matrice io ruba quindi comunque sono ritualista tratto voodoo candomblé macumba umbanda kimbanda eccetera e però questa volta appunto voglio presentarmi come tarologa quindi che è la mia attività una delle le mie attività principali e vorrei farlo con un consulto interattivo dove partirò diciamo dalla evoluzione di una situazione quindi per capire un po come se si sblocca o non si sblocca una situazione e lo farò appunto in maniera abbastanza generica in modo tale che le nostre amiche i nostri amici potranno applicarlo a qualsiasi settore della loro vita che sia un settore lavorativo che sia il settore amoroso e quindi non escludiamo nessuno inoltre vorrei attuare anche una lettura karmica quindi con un mazzo particolare di tarotti che in realtà è un mazzo dei troppi di visconti dei risconti però diciamo contiene dei suggerimenti dei consigli che danno le carte di conseguenza appunto questo si può vedere come anche sbloccare come far evolvere a nostro favore una situazione che magari non è come ce l'aspettiamo quindi vorrei partire in questo modo bene benissimo allora niente ci dici cosa devono fare le persone che ci seguono sì certamente allora io adesso mescolerò il mazzo quindi voi pensate alla situazione che vi sta a cuore che può essere come ho detto una situazione di carattere lavorativo quindi se troverò un impiego oppure se avrò una promozione se riuscirò a stare con l'uomo che amo che può essere magari magari un uomo impegnato oppure un uomo libero che non sembra considerarci viceversa appunto si pensino all'inverso gli uomini nei confronti di una donna quindi applichiamo questa lettura a qualsiasi sfera a noi sia di nostro interesse dividerò poi tre mazzetti e quindi ciascuno di voi potrà concentrarsi scegliendo o la sfera di selenite o la sfera di cristallo ho la piccola sfera di quarzo rosa quindi se tu mi autorizzi io parto sì sì tranquilla benissimo vado allora vai vai vediamo un attimino cosa ci riserva questa lettura ricordo cartomante venus ritualista pagina facebook cartomante venus giusto instagram venus cartomante potete contattarla lì trovate tutti i riferimenti per chi vuole poi magari una cosa personalizzata dato anche perché questi consulti interattivi vanno presi un po con le pinze anche se vanno un po per la maggiore perché comunque bisogna raccogliere proprio quelle sfumature o quei particolari che sentiamo molto più vicini e lasciare andare appunto tutto quello che non sentiamo nelle nostre vibrazioni che non fa per noi perché appunto ovviamente non trattiamo con l'energia di una persona specifica ma ci rivolgiamo al grande pubblico e di conseguenza appunto ciascuno potrà prendere quelle che sono le informazioni le vibrazioni che sente appunto più che risuonano la propria personalità la propria situazione allora andiamo a vedere allora mi fermo apro vediamo come si evolverà questa situazione il taglio mazzo che faccio lo faccio per tutti e tra i mazzetti allora innanzitutto partiamo dal fatto che ciascuno di voi che ha scelto una di fare questa questa lettura interattiva non si trova in una situazione facile quindi sicuramente ci sono delle abbiamo un nove di bastoni e il nove di bastoni ci spiega appunto delle fa riferimento a delle contrarietà alla lentezza quindi sia in una situazione sentimentale sia in una situazione lavorativa abbiamo delle avversità quindi qualcosa con la quale dobbiamo fare i punti andiamo a vedere l'altro taglio mazzo e ho preferito farlo appunto un unico taglio mazzo per tutti proprio per identificare una situazione una situazione generale allora vale per tutte le tutte le estrazioni diciamo questo vale per tutte le stesse che poi farò i tre i tre mazzetti allora l'altra l'altra cosa importante che viene fuori che emerge appunto dall'altro taglio mazzo è un quattro di spade il quattro nel nei tarotti indica sempre una stabilità in positivo o in negativo in un settore o nell'altro il quattro di spade in questo caso è rovesciato e indica appunto una sorta di solitudine la persona quindi si trova in una situazione stabile ma una stabilità che è più che altro ristagno direi e non ha nessuno o almeno non ha trovato una persona valida con la quale potersi confrontare per sbrogliare il vangolo della matasta allora adesso che abbiamo eseguito il taglio marzo andiamo a dividere tre mazzettini e ne facciamo uno di sinistra che è corrispondente alla piccola sfera di quarzo rosa uno centrale che è corrispondente alla sfera di cristallo e uno invece che è corrispondente la sfera più grande di stelenite quindi concentratevi sulla vostra domanda abbiamo detto che non importa il settore sia esso sentimentale lavorativo qualsiasi settore io non effetto questa stesa per la salute perché comunque nei miei consulti non è contemplata non perché io non riesca a vedere le situazioni di salute perché comunque essendo sensitiva gente quant'altro vedo però per una questione deontologica io non affronto questo tipo di problematiche né tratto problematiche su minori questo appunto lo volevo specificare quindi prendiamoci qualche minuto qualche secondo più che altro per concentrarci sulla domanda puoi farlo anche tu massimo in segreto puoi pensare alla situazione del tuo cuore ok vi lascio qualche secondo per pensare mazzetto di sinistra sfera di quarzo rosa mazzetto centrale sfera di cristallo mazzetto di destra sfera di selenite allora mettiamo via un attimo gli altri mazzetti e partiamo da quello della nostra di destra per chi ha fatto questa scelta con la sfera di selenite allora partiamo dal presente abbiamo una situazione in cui c'è una forte preoccupazione da parte del consultante ci sono delle contrarietà oppure possono esserci stati anche degli imprevisti in merito appunto a una situazione che doveva andare in un certo modo e magari appunto ha avuto una evoluzione diversa in questo caso la carta indica anche una certa prudenza e questa indicazione duplice può essere la prudenza stessa del consultante quindi consultante che decide di muoversi piano nei confronti di un'altra persona nei confronti di una situazione perché non è sicuro da farsi ma può indicare anche il consiglio stesso che danno le carte perché la lettura karmica comunque della carta suggerisce anche non soltanto una visualizzazione di quella che è la situazione ma di quella che potrebbe essere attuando una determinata azione quindi in questo caso l'azione della prudenza andiamo a vedere qual era la situazione precedente la situazione precedente sicuramente prevede qui parliamo del passato remoto vedeva appunto una certa stabilità il soggetto ha conosciuto un periodo più favorevole un successo potrebbe essere un successo lavorativo un successo nell'ambito familiare o di una relazione ma in qualche modo questo è sfuggito dalle mani è nato qualcosa probabilmente si è sviluppato per un certo periodo di tempo ma sono subentrati appunto questi imprevisti di cui appunto ho parlato e che abbiamo visto appunto sul presente la persona che ha scelto il mazzetto di destra corrispondente appunto alla selenite è una persona che però non ne morde quindi è una persona che attua tutte le possibili azioni per poter arrivare a capo della situazione quindi ci sarà un impegno positivo un viaggio che non è il viaggio soltanto fisico ma è anche il movimento verso la ricerca di qualcosa quindi appunto lavorativamente parlando di un nuovo posto di lavoro di una promozione il darsi da fare per anche in campo in campo amoroso questi ostacoli probabilmente sono stati causati anche da qualcuno che era diciamo nella nostra sfera di conoscenza oppure potrebbe essere anche da un antagonista quindi diciamo non dipendono del tutto dal soggetto, dalla propria incapacità, dalla incapacità del soggetto anzi dipendono da qualcosa di esterno nel caso specifico dell'amore potrebbe essere anche che si tratti di un uomo, che il consultante sia un uomo o una donna che ha a che fare con un soggetto che è dubbioso, magari depresso o che esca da una situazione sentimentale particolarmente caotica e che per questo non riesca ad impegnarsi. Vediamo che cosa si aspetta a breve allora a breve noi abbiamo una situazione di rivelazione quindi la rivelazione potrebbe essere sicuramente qualcosa di positivo che va in qualche modo a combaciare con quelle che sono le caratteristiche del consultante cioè quel 10 di bastoni, l'impegno positivo un impegno positivo che già nel breve termine porterà appunto a dei risvolti altrettanto positivi ma non ancora a quello che sarà appunto l'esito finale che andremo a vedere come dicevo il consultante è una persona che si impegna molto infatti noi abbiamo la carta della papessa la papessa non necessariamente è rivolta appunto a una figura femminile la papessa indice comunque anche di intelligenza, di riuscita, di capacità, di impegno coincide anche con le scienze occulte quindi in alcuni casi per chi opera ritualistica quindi cerco di fare un po' semi di lungo perché faccio una panoramica un po' generale per chi si occupa di ritualistica significa che sono stati fatti eventualmente se sono stati fatti dei rituali questi andranno a buon fine quindi se è stato fatto un rituale per il lavoro o per l'amore questo ha tutte le possibilità di riuscita perché la prima possibilità è quella che gli viene data dal soggetto stesso cioè dalla sua capacità di attrarre ciò che è positivo vediamo che cosa c'è al di fuori le circostanze in questo caso esterne saranno favorevoli infatti abbiamo la carta del carro, il progresso il carro porta la vittoria, il trionfo, un aiuto esterno quindi anche in questo caso per chi si affida alla ritualistica sicuramente sarà qualcosa che apporta sicuramente una riuscita per chi non si affida alla ritualistica sicuramente saranno anche gli eventi esterni che aiuteranno il consultante nel raggiungimento del suo obiettivo le persone in particolare che incontrerà potranno mettergli bastoni tra le ruote l'atteggiamento di prudenza che abbiamo visto che le carte consigliavano anche sul presente sarà da mettere in atto più che mai e il soggetto dovrà essere quantomeno indulgente, tollerante, morbido quindi anche in amore non scontrarsi, non pretendere, non volere tutto subito aspettare che le cose vadano per il verso giusto e infatti le cose andranno per il verso giusto ciò me lo conferma appunto l'esito del consulto che è appunto un tre di bastoni quasi lo anticipavo perché comunque mi aspettavo che effettivamente ci fosse una carta del genere che fa riferimento ancora alla prudenza quindi il tre di bastoni dice ok muoviti con calma in qualsiasi settore ma con ingegno, con intelligenza avrai il tuo miglioramento quindi non è soltanto qualcosa che si muove a breve termine ma qualcosa che risulta anche a esito del consulto quindi di conseguenza un miglioramento vediamo ora quella che è la carta senza tempo allora nei tarocchi il tempo è relativo quindi è vero che si possono dare delle indicazioni sui tempi però dipende anche naturalmente siccome noi siamo dotati di libero arbitrio a fronte di quelle che sono le previsioni noi possiamo modificare la nostra situazione attraverso delle azioni quindi seguendo secondo la mia lettura non soltanto quello che ci viene detto sull'accadimento reale dei fatti ma attenendosi anche a dei consigli si potrà avere effettivamente in questo caso la realizzazione e nella carta senza tempo le ambizioni che vengono riconosciute quindi il fante di denari apporta sicuramente realizzazione o in campo amoroso, in campo affettivo può essere anche non necessariamente la conquista di un uomo ma anche una famiglia che è in una situazione turbolenta una questione di studio quindi la riuscita all'università un colloquio importante di lavoro quindi diciamo che nel tempo questa situazione diventa solida questa realizzazione e il soggetto progredisce interiormente questo suo progresso interiore si riflette verso l'esterno si riflette verso l'esterno portando ad una completa realizzazione quindi questa lettura mi sembra che questo mazzetto legato alla sfera di Selenite sembra del tutto positivo per l'evoluzione di una situazione siccome io in questa lettura ho detto che in questa lettura interattiva utilizzerò anche altri due mazzi di tarocchi lo faccio per ciascun uno diciamo in realtà non sono due mazzi di tarocchi uno è un mazzo di carte corrispondenti alle gemme ai cristalli allora l'altro mazzo di tarocchi un po' particolare ci dà comunque dei suggerimenti dei consigli e anche un po' di indicazioni di carattere temporale adesso lo prendiamo che mazzo è? è sempre un mazzo dei visconti è un mazzo che io ho fatto fare diciamo personalizzandolo con alcune annotazioni vi faccio vedere per esempio per esempio alcune carte ecco questo è un arcano minore e abbiamo appunto i significati non so se si vede bene non si legge però si si vede ecco abbiamo i significati delle carte al dritto e al rovescio anche una diciamo una circoscrizione temporale e un consiglio degli arcani perché sia gli arcani maggiori che gli arcani minori sono forieri di consigli allora questo mazzo è da mescolare in modo particolare perché è un po' grande e quindi ho trovato un sistema diverso ok allora vediamo la carta abbinata a questo mazzetto che cosa ci dice ah devo mettere gli occhiali da lettura perché altrimenti non ci siamo proprio allora abbiamo visto appunto dei significati molto positivi per quanto riguarda la prima la prima lettura abbiamo qui la carta dell'eremita la carta dell'eremita è un arcano abbastanza pesante quindi ci parla sicuramente di tempi lunghi anche se abbiamo visto che questa realizzazione era già abbastanza prevedibile nel breve termine però avevamo notato anche delle carte che indicavano comunque la prudenza quindi al di là diciamo di un significato temporale quindi di tempistiche lunghe l'eremita indica anche la persona paziente quindi la pazienza del consultante l'atteggiamento diciamo morbido come dicevo prima quindi in questo caso abbiamo diversi significati che collimano perfettamente con la lettura di questo mazzetto infatti l'eremita fa riferimento a tutto ciò che è solido profondo alla saggetta alla concentrazione anche in qualche modo a una protezione occulta infatti avevo fatto riferimento prima proprio a un aiuto dall'esterno quindi anche nei confronti anche per coloro che si affidano per esempio alla ritualistica perché fa riferimento proprio anche a dei fenomeni paranormali si parla appunto di consigli che vengono da parte provengono da parte di persone anziane o comunque di persone affidabili possono essere anche delle guide spirituali a cui il consultante che abbiamo visto un po' smarrito abbiamo visto nel taglio matto può affidarsi quindi la ricerca appunto di una persona che viene effettivamente che viene effettivamente trovata e effettivamente la realizzazione proprio per quanto riguarda il settore affettivo e anche lavorativo ma può riguardare l'eremita riguarda anche le questioni relative alle cause giuridiche per chi appunto avesse interrogato i tarocchi per questo motivo o relativo anche alla vendita di immobili quindi ad un trasferimento o un'acquisizione di immobili può essere anche per una transazione finanziaria il consiglio il consiglio delle carte è quello appunto di prendere tempo come dicevo prima e di riflettere assolutamente prima di agire i tempi comunque sono legati all'inverno quindi diciamo che la realizzazione anche se qui è da prendere un po' con le molle come dicevo si avrà prevalentemente che può essere o diciamo allo stato attuale oppure anche per il consolidamento quindi nel caso della carta senza tempo il consultante lo potrà vedere realizzato proprio in una sentirsi a proprio agio in questa situazione proprio in una stagione legata all'inverno in particolare legata anche altrimenti ai segni della vergine e del capricorno quindi diciamo questo è quello che ci viene detto anche il consiglio delle carte e infine per completare questa lettura prendiamo anche quello che può essere un suggerimento quindi magari un piccolo portafortuna che i nostri ascoltatori le nostre ascoltatrici possono acquistare magari in un negozio di pietre per farsi assistere in situazioni che devono sbrogliare per avere la loro realizzazione questa pietra favorirà la qualità che viene descritta dalla carta stessa legata appunto alla pietra anche in questo caso io ho le mani piccole di conseguenza mescolo in questo modo perché altrimenti mi sfuggono tutte le carte allora in questo caso siccome qui le carte si vedono prenderò da dietro una che legherò scelgo io per voi chiaramente che legherò questo mazzetto allora in questo caso queste sono delle carte legate comunque ai cristalli in questo caso appunto noi abbiamo carte che individuano anzitutto un cristallo che è la giulite e indica appunto alternative quindi sicuramente non soltanto le realtà alternative ma anche la possibilità di realizzazioni alternative quindi sicuramente con la possibilità appunto di cioè con la capacità di essere prudenti di attendere quelli che sono i frutti noi avremo appunto una realizzazione alternativa che rivalterà completamente il nostro presente e lo migliorerà quindi questa è la prima lettura di questo del primo mazzetto un po' lunga però bene bene allora adesso mettiamo via questo siamo alla seconda stesa passiamo alla seconda stesa allora il secondo mazzetto era quello legato alla nostra sfera di cristallo tanto ricordo cartomante venus pagina facebook cartomante venus e pagina instagram venus cartomante trovate tutti i suoi riferimenti per consulti quello che desiderate lei è una ritualista anche si occupa di rituali con magia di matrice yoruba voodoo macumba santeria esatto ricordiamo appunto alle persone che magari si sono collegate che si sono collegate adesso che stiamo facendo una stesa interattiva di conseguenza non è affatto come una stesa personale personalizzata quindi non c'è presente la persona presente inteso anche nel caso di un consulto telefonico come vibrazione non c'è la descrizione della problematica per cui appunto abbiamo scelto di trattare delle tematiche che possono essere piuttosto ampie dal lavoro alle transazioni immobiliari oppure transazioni commerciali contratti cause studio e anche amore e lavoro proprio per dare la possibilità a tutti di seguire appunto questo mio metodo questa lettura che è anche karmica e di cogliere naturalmente quelli che sono le le mie parole diciamo quello che nelle mie parole sembra risuonare maggiormente come vicino alla propria situazione e anche come una possibilità appunto di risoluzione della situazione stessa perché appunto noi guardiamo come si evolve ma anche come si capovolge una situazione cioè cosa dobbiamo fare per migliorare la nostra situazione la prima stesura il primo mazzetto che abbiamo indicato è stata una lettura molto bella molto proficua e vediamo anche se lo sarà ugualmente il secondo mazzetto allora in questo caso abbiamo un 5 di bastoni che fa riferimento appunto ne parlavo prima ai cosiddetti un 5 di bastoni rovesciato fa riferimento appunto a una situazione di contrasto la situazione di contrasto potrebbe essere appunto in casa quindi una situazione familiare un po' burrascosa una situazione di litigio fra coniugi fra fidanzati oppure potrebbe essere semplicemente anche una difficoltà nel raggiungimento di un obiettivo o addirittura un problema di carattere giudiziario quindi è qualcosa comunque di abbastanza forte in questo caso quindi a differenza della prima stesura non abbiamo soltanto diciamo una situazione da migliorare ma qui abbiamo proprio una situazione che non bisogna semplicemente migliorare ma bisogna proprio salvare in qualche modo perché è molto più forte molto più grave in qualche modo andiamo a vedere appunto il passato infatti qua me lo conferma anche la carta del passato remoto perché mi parla di una situazione che non è nuova non è qualcosa che si è venuto a creare da qualche tempo a questa parte ma è qualcosa che ha delle radici molto molto profonde qui si parla di perdita di affetto di amicizia di un'infelicità di qualcosa di consolidato o di un problema finanziario o giudiziario giuridico che comunque ha come dicevo prima appunto basi particolarmente e sfortunatamente solide andiamo a vedere qual è la modalità per poter cambiare questa situazione e che cosa consigliano le carte dunque ancora una volta mi viene fuori un nove di coppe rovesciato che mi conferma il fatto che non si tratta di una situazione da migliorare ma di una situazione effettivamente dove c'è da salvare il salvabile quindi bisogna agire concretamente agire in maniera veramente strong e nonostante tutto queste carte ci dicono questi tarocchi ci dicono che comunque la vittoria sarà partiziale ma non tutto è perduto perché comunque io fino all'ultima carta fino alla stesa fino al consiglio dell'arcano non dico ancora che le cose non vanno bene voglio vedere se c'è la possibilità appunto di capovolgere una situazione allora per quello diciamo che l'atteggiamento del soggetto in questo caso sì un po' la colpa è del consultante probabilmente ci sono state delle azioni che ha compiuto che non sono state detutito dipendenti dalla fatalità ma anche da rischi che ha corso perché si è messo in questi in questi rischi o ha compiuto delle azioni non troppo belle ha compiuto un azardo ha compiuto un affronto ha effettuato un affronto verso un'altra persona quindi si trova in questa situazione perché non ha saputo gestire la propria vita in un certo qual modo le proprie emozioni andiamo a vedere che cosa accadrà a breve allora abbiamo la carta della giustizia la carta della giustizia ci dice che appunto sì qui dobbiamo salvare salvare qualcosa e dobbiamo salvarlo con l'equilibrio quindi a breve ci sarà anche qua un piccolo miglioramento però questo miglioramento richiede un grosso grosso sforzo uno sforzo che è dato proprio dall'equilibrio dal partire da se stesso nel caso in cui si stesse affrontando una questione legata perché in questo mi viene fuori molto il lato giuridico quindi giudiziario quindi nel caso in cui ci fossero delle problematiche legate a contrasti anche in questo in questo ambito ci sarà a breve comunque un un procedimento nel caso in cui invece fossero problematiche di lavoro ci sarà comunque una decisione o anche in casi sentimentali una decisione comunque si concretizzerà a breve qualcosa che metterà il soggetto di fronte al fatto compiuto e questa cosa diciamo non sarà affatto non sarà affatto piacevole perché sentirà il peso delle conseguenze delle proprie azioni sentirà appunto la critica dall'esterno ma anche i tarocchi ci parlano di capacità di autocritica per risolvere proprio questa questa situazione infatti se viene attuata una certa autocritica se ci si rimette in discussione se si modifica il proprio comportamento le carte ci dicono che c'è sempre una seconda possibilità le stelle rovesciate che sono le stelle sono una carta un po' ambigua una carta che può dare speranza ma nello stesso tempo può indicare anche perché le stelle vengono spesso coperte dalle nubi possono anche smettere di indicare la strada ecco il soggetto ha perso la strada giusta non ha saputo relazionarsi in una determinata situazione non ha saputo come dicevo prima gestire la propria vita gestire le proprie finanze ha fatto delle scelte sbagliate però ci può essere naturalmente rimettendosi in discussione in questo caso appunto deve partire proprio da sé la cosa ci può essere appunto la la riuscita ma per fare questo il soggetto deve smettere di essere un papa rovesciato quindi deve smettere di continuare con i suoi inganni nel caso in cui abbia intessuto degli inganni con i propri errori con le proprie azioni basse deve comunque evolversi deve cambiare solo il cambiamento può diciamo anche a fronte magari di una di una situazione non facile nella quale si troverà solo questo cambiamento interiore potrà garantirgli una seconda chance una una seconda possibilità infatti nella cosiddetta carta senza tempo di cui ho accennato prima che alla quale ho accennato prima che fa riferimento diciamo a un spazio un tempo non ben definiti ma che comunque vanno a identificare tutto il completamento della vita di una persona abbiamo un sette di spade il sette di spade fa riferimento comunque allo sforzo della persona e dà anche un suggerimento quindi la persona deve attendere non soltanto attendere questo miglioramento non soltanto cercare di salvare una situazione perché in questo caso è già abbastanza compromessa ma ha la possibilità con molto molto sforzo in questo caso se lo vuole veramente perché il sette di spade corrisponde anche al desiderio di combattere per la realizzazione anche in questo caso si può ottenere effettivamente una realizzazione quindi non tutto è perduto nel caso dell'amore magari non sarà con la stessa persona nel caso del denaro non sarà con l'affare nel caso di un processo non si avrà la vittoria completa ma c'è la possibilità di rigenerarsi di avere una seconda occasione di migliorare appunto la propria la propria vita quindi magari accanto ad un'altra persona con un nuovo progetto un nuovo lavoro quindi diciamo che le mie carte danno sempre una seconda possibilità andiamo a vedere sempre come abbiamo fatto prima altri due mazzetti che sono uno il mazzetto dei cristalli e l'altro invece prima però andiamo a vedere un mazzo dei visconti personalizzato che dà delle indicazioni temporali e delle indicazioni proprio dei suggerimenti da parte delle delle carte anche qui come ho detto prima dovrò armarmi di pazienza per mescolare il mazzetto mazzotto e i ciali per esempio Mante Venus la trovate su facebook cartomante Venus e su instagram Venus cartomante esatto ho un contatto whatsapp 366 4648 786 mi potete contattare con un messaggio per una lettura o un consulto personalizzato e lasciando appunto il vostro nome e ricordo perché è sempre meglio ricordarlo perché mi capita di tutto no per di tempo e no chat per conoscenza perché faccio la cartomante e non mi interessano altri argomenti allora andiamo a scegliere per il secondo mazzetto quello della sfera di cristallo che cosa ci dicono gli arcani scelgo io per voi concentratevi però perché mi aiutate nella scelta ok abbiamo un cavallo di coppe allora faccio vedere anche questa carta anche se vediamo eccola qua vedete che ci sono delle bellissime descrizioni oltre appunto alla raffigurazione della carta il cavallo di coppe ci parla comunque della di un arrivo di un'accoglienza è un intermediario di nuove conquiste quindi come dicevo prima avremo una seconda possibilità probabilmente non sarà proprio quella la persona con cui potremo legarci non sarà quello il matrimonio che potremo salvare o il progetto che potremo portare a termine ma il cavallo di coppe ci dice no ma non finisce qui tu puoi fare altro puoi rimetterti in gioco metti discussione te stesso e sicuramente avrai un'altra opportunità infatti il consiglio dell'arcano è quello di lasciarsi andare e abbandonarsi all'amore ma in questo caso abbandonarsi all'amore non è visto soltanto in chiave sentimentale ma è visto anche diciamo all'amore verso il mondo all'amore verso se stessi all'amore universale quindi la capacità proprio di cambiare il nostro modo di rapportarci agli altri cambiare il modo di gestire la nostra vita quindi in questo senso amore cioè voler bene a se stessi agire correttamente agire secondo una certa una certa morale proprio per migliorare la nostra vita vediamo ora quale diciamo cristallo ci potrebbe aiutare e quale diciamo facoltà possiamo grazie all'aiuto di questo cristallo possiamo sviluppare allora e naturalmente che cosa che cosa ci può aspettare perché in questo canto i cristalli danno dei loro suggerimenti perché io mi occupo di cristallo magia quindi la cristallo magia diciamo che è un termine che io utilizzo molto è l'utilizzo dei cristalli proprio come intermediari per i nostri diciamo fra la realizzazione dei nostri desideri e la realtà per il potenziamento delle proprie delle proprie facoltà e anche in alcuni casi per la veggenza tu hai anche un laboratorio giusto prima volevo spiegare un attimino prima di andare avanti è un laboratorio dove fai delle cose giusto sì allora si chiama l'antico antro delle streghe è tra Bergamo e Brescia e collaboro con una mia carissima amica che è stata per molto tempo a New Orleans e lavoriamo appunto creando delle candele speciali che sono lavorate non sono prodotte in serie quindi sono lavorate per la singola persona così come i kit magici e produciamo degli oli esoterici che sono il frutto appunto del connubio tra resine speciali oli essenziali ma soprattutto dei rituali infatti per ogni olio c'è una preparazione che dura dalle tre settimane fino addirittura ai sei mesi prima che questi oli possano essere pronti infatti sono diciamo in quantità limitata di volta in volta ne creiamo di nuovi proprio per esigenze particolari c'è capitato spesso di creare degli oli appositamente per delle persone che ce li hanno richiesti per delle situazioni quindi si chiama l'antico antro delle streghe e lo trovate all'omonima pagina facebook antico antro delle streghe allora concentriamoci e scegliamo una carta allora il lapislazzuli la bellissima pietratura blu con delle pagliuzze dorate allora il lapislazzuli ci porta proprio a confermare quello che abbiamo detto finora la self knowledge l'autoconoscenza la conoscenza di se stessi ma la capacità di farlo autonomamente quindi conoscere se stessi rimettersi in discussione autocritica miglioramento seconda chance come avevo detto prima prendiamo quindi un lapislazzuli eventualmente se non sapete come fare potete contattarmi poi e vi spiego come fare carichiamo la pietra diamogli un compito chiediamo alla pietra di poterci aiutare teniamo quindi un piccolo lapislazzuli al quale avremmo chiesto appunto se possiamo imprimere un certo input perché ci possa aiutare in questa rinascita in questa realizzazione quindi per questa seconda per questa seconda lettura è tutto passiamo ora alla terza ecco sì allora la terza è legata alla mia piccola sfera di di quarzo rosa questo bellissimo mazzetto anche qua ricordiamo chi si fosse collegato adesso di pensare ad una situazione che può essere di qualsiasi tipo amore lavoro denaro giustizia e che dire cogliere tra le mie parole dalle mie parole ciò che sentite risuonare di più come che possa essere utile diciamo alla vostra la risoluzione della vostra problematica e compacente soprattutto alla vostra problematica poi per letture personali potete appunto contattarmi e sarà molto più anche facile individuare quelli che sono i problemi e le soluzioni proprio perché c'è l'energia della persona quindi non la presenta ma magari perché adesso con il covid poi io lavoro con tutta l'Italia all'estero appunto non ci si vede personalmente però c'è l'energia comunque della persona la persona concentrata sul proprio problema allora andiamo a vedere appunto che cosa ci dice questo mattetto legato alla nostra sferettina di quarzo rosa allora allora in questo caso qui siamo più su una questione di amore perché escono comunque esce un 3d coppe il 3d coppe è rovesciato la lettura è comunque parte da una situazione anche qui non tanto non tanto favorevole anche se non gravissima come nel secondo mazzetto ma comunque dove il soggetto in qualche modo è smarrito il consultante è smarrito come avevamo visto al taglio mazzo che era uguale un po' per tutti e che vedeva appunto il consultante un po' annaspare perché aveva bisogno proprio di una guida qui abbiamo appunto dei ritardi quindi sicuramente qualche progetto che è slittato un imprevisto oppure in una situazione sentimentale una questione di o eccessi o di ingratitudine quindi anche una situazione di laborativa potrebbe essere ecco quindi magari un collega che ci ha fatto lo sgambetto un capo che non è stato in grado di riconoscere le nostre qualità quindi in questo caso abbiamo comunque una situazione portata all'incesto una situazione che non va bene che bisogna bisogna in qualche modo cambiare andiamo a vedere nel passato che cosa c'era ecco qui abbiamo davanti una persona comunque che è un re di spade il re di spade può essere un'istituzione quindi sì appunto un'istituzione o una persona fisica potrebbe essere anche lo stesso consultante parlare appunto siccome abbiamo visto nel presente gli eccessi l'ingratitudine eccetera potrebbe essere l'atteggiamento stesso del consultante aver provocato determinati risultati viceversa potrebbe essere appunto qualcuno con cui il consultante si relaziona quindi un partner che gli ha causato dei problemi delle sofferenze quindi questa situazione deve essere in qualche modo sbrogliata deve essere sistemata c'è una forte incertezza la paura dell'insuccesso qui la persona non è sicura di sé non sa che pesci prendere veramente sembra che sia destinata ma non perché lo sia veramente ma perché pensa di essere destinata ad una sorta di fallimento ma non è così perché noi dobbiamo andare a vedere che cosa ci dicono tutte le altre carte quindi andiamo a vedere effettivamente che cos'è qual è la previsione per il consultante che deve un pochino diciamo tirarsi su tirarsi fuori da questa situazione di disordine potrebbe essere anche una persona un po' depressa potrebbe essere anche che una situazione sentimentale l'abbiamo fatto deprimere una rottura un mancato riconoscimento appunto sul lavoro allora cosa ci dicono le carte guarda che tu puoi riprenderti a breve infatti abbiamo il fante di bastone di bastoni che porta appunto delle buone notizie le buone notizie in questo caso arrivano in un momento di grave incertezza proprio dall'esterno quindi la persona che magari può essere un po' fragile un po' debole un po' depressa potrebbe trovare una persona che la consoli un nuovo capo un'alternativa c'è un cambiamento in atto quindi qualcosa che si sta per verificare a breve termine quindi deve solo pazientare e cercare di tirarsi su di morale di non accompagnare con incertezza con paura dell'insuccesso quello che può essere diciamo il trend della situazione attuale infatti così facendo abbiamo proprio le novità sentimentali quindi magari un nuovo amore una sorpresa inaspettata quindi una possibilità di un nuovo contratto di una nuova amicizia insomma di notizie positive e perché no anche di denaro proveniente dall'esterno quindi le carte ci dicono che il soggetto deve fondamentalmente attuare una metamorfosi per quanto riguarda se stesso e però in questo caso a differenza della lettura della seconda lettura quindi di quella legata alla sfera di pistallo non è un soggetto che ha sbagliato qui è un soggetto che si è trovato in una situazione non per colpa sua ma diciamo la sua colpa fra virgolette è quella di abbattersi quindi di perpetuare questa situazione dove risulta perdente proprio perché non si vuol tirare fuori non vuole fare niente facendo invece qualcosa stimolerà in qualche modo la legge di attrazione e procurerà a se stesso proprio delle cose positive quindi denaro nuovi amori nuove nuove amicizie c'è la carta del sole quindi la rivelazione che indica proprio la rivelazione di se stesso il trovare nuovi un nuovo una nuova spinta emotiva una la capacità quindi di generare addirittura la felicità di generare la fortuna di arrivare ad una vera e propria unione che può essere appunto nonostante come dice l'ultima carta che è quella della luna nonostante la propria depressione perché la luna diciamo fa riferimento anche comunque all'oscurità alle minacce ma in questo caso la minaccia è il soggetto stesso che è una minaccia per se stesso è proprio l'autocritica ma non perché ha fatto qualcosa di sbagliato ma l'autocritica per dire perché sono così depresso perché mi lascio andare no devo fare qualcosa perché se io faccio qualcosa attrarrò tanta tanta positività perché quello che sta succedendo non è in alcun modo dipeso da me nella carta senza tempo abbiamo una sfida per questo soggetto in questo caso non abbiamo una soluzione definitiva anche se poi andremo a chiarire con gli altri due massetti perché abbiamo il matto rovesciato qui proprio io vedo che la persona ha proprio qualche cosa che non va a livello diciamo emozionale emotivo è stato uno scompenso quindi c'è un disordine una persona che è eccessiva in tutto eccessivamente introversa eccessivamente oppure eccessivamente estroversa eccessivamente agitata eccessivamente chiusa ecco cosa ci dice la carta non ci descrive soltanto che cosa com'è la persona ma cosa deve fare per cambiare questa situazione quindi per uscire dalla situazione di eccesso di errore dovrà appunto analizzarsi magari facendosi anche aiutare quindi è molto importante anche un supporto esterno che comunque troverà perché qui le carte indicano molte persone che sono disposte a dare supporto al consultante per un cambiamento positivo quindi un ribaltamento della propria situazione andiamo a vedere ora con i due altri mazzi come ho fatto prima per le prime due stese quale può essere il consiglio degli arcani con il mazzo dei visconti anche questo è un mazzo dei visconti però quello è un mazzo particolare più grande dove appunto abbiamo anche in qualche modo dei riferimenti temporali e il consiglio delle carte allora andiamo a vedere concentratevi ognuno pensi al proprio problema pensi a quello che ho detto pensi al modo in cui ha potuto ritrovarsi nella mia lettura ovviamente come dicevo prima per quello che può essere per quello che può risuonare alla persona a differenza delle varie situazioni per cui diciamo ho consultato comunque l'oracolo e andiamo a vedere che cosa ci dicono che cosa ci dicono le carte allora benissimo abbiamo un due di spade il due di spade in questo caso è uscito capovolto e diciamo ci fa riferimento in questo caso ad una mia situazione come dicevo prima dove il soggetto deve uscire dalla propria chiusura dai propri eccessi dalla certe volte anche magari dalla superficialità dal pensare che tutto va come deve andare a essere così fatalista cercare invece di darsi da fare per migliorare non è detto che riesca a farlo da solo come ho detto può farlo con l'aiuto di altre persone deve farlo con l'aiuto di altre persone perché sono previste cioè ci sono in quel mazzo si parla proprio dell'aiuto di altre persone consiglio dell'arcano infatti cerca nuove amicizie senza abbandonare le vecchie quindi che cosa vuol dire non parliamo solo di amicizie parliamo di certezze che non si devono abbandonare non è che una persona deve sconvolgere la propria vita però mettere in discussione quelli che sono dei punti che magari finora non sono stati adeguati quindi mettersi in discussione e cercare appunto di uscire da una situazione come ho detto appunto qui abbiamo una situazione di eccesso o in negativo o in positivo che deve essere portata appunto in equilibrio per la per la riuscita perché abbiamo visto nella carta senza tempo il matto che ci descrive la personalità ma il matto non vuol dire che rimane tale ma può migliorare può migliorare insieme appunto alla carta della giustizia vediamo infine come abbiamo fatto per tutte le altre stese le carte dei cristalli e lo voglio ripetere ancora mi occupo dello studio dei cristalli e della cristallomagia quindi l'impiego dei cristalli nelle operazioni di veggenza nei rituali o come portafortuna o come servitori poi magari ne parlerò più approfonditamente di che cosa sono i servitori in magia però in qualche modo parliamo di cristalli anche ho visto che hai tirato la pietra non nascondere la mano dacci un cenno scusa i servitori sono degli oggetti diciamo che vengono caricati dall'operatore magicamente con un proposito devono essere caricati minuziosamente perché appunto serviranno all'operatore in questo caso appunto conviene che siano caricati in maniera quando farei caricati che cosa intendi allora facciamo finta che io prenda questa piccola sfera di quarzo rosa e voglio che diventi il mio servitore per per il denaro ecco un esempio che farò non dovrò dire se non è così facile immediato e dire benissimo tu sfera rosa ti chiedo di operare per me per farmi acquisire del denaro no allora teoricamente sì perché tu trasferisci l'energia chiedi con la tua intenzione cerchi una collaborazione quindi l'azione è giusta ma le modalità sono sbagliate perché io non posso chiedere del denaro senza specificare in che modo io voglio questo denaro quindi senza creare magari beh qui siamo ai casi estremi senza creare magari un documento senza nuocere le altre persone perché io magari posso morire del denaro ma non voglio che il denaro magari mi provenga da un'eredità quindi dovrò minuziosamente programmare questi servitori nella pratica invece con i cristalli quindi quando parliamo semplicemente di caricamento dei cristalli che non creiamo un servitore ma chiediamo un aiuto quindi in questo caso parliamo di un talismano cioè la possibilità appunto di ricevere in qualche modo di un oggetto magico comunque che ci agevoli in una determinata situazione quindi in questo caso per le persone meno esperte si consiglia sempre di operare con i cristalli chiedendo semplicemente un aiuto quindi o secondo le proprietà dei cristalli stessi per chi li conosce o appunto affidandosi io lo faccio molto spesso con questo mazzo di carte che ha contempla diverse pietre e ad ognuna diciamo di queste corrisponde appunto una qualità un talento specifico e la chiave di lettura è duplice perché potrebbe essere o quella di una richiesta appunto di una necessità di rafforzare quell'aspetto o una richiesta proprio per quanto riguarda l'aiuto proprio in quell'aspetto allora andiamo a vedere concentratevi e andiamo a vedere appunto questo questo mazzetto quale cristallo ci ci propone allora sceglierò io per voi naturalmente con la vostra energia allora abbiamo il topazio anche qua come nelle altre stese il topazio ci dice ci dice che non ho sbagliato ci dice che qua c'è l'intenzione cosa dobbiamo chiedere al cristallo al topazio dobbiamo chiedere intenzione dobbiamo chiedere iniziativa capacità di valutazione dei propri del proprio essere del fatto di essere troppo chiusi come ho detto prima o troppo aggressivi troppo lenti troppo veloci troppo no noi dobbiamo essere in equilibrio quindi lo possiamo fare però con l'intenzione questo equilibrio non arriva giù dal cielo arriva perché noi noi stessi lo andiamo a cercare dobbiamo avere l'intenzione e in questo caso la pietra del topazio ci può aiutare diciamo in questa in questa situazione quindi diciamo queste sono le tre stesure mi sono dilungata parecchio perché ci tenevo a darvi proprio i consigli e anche la lettura del diciamo con le pietre con i cristalli bene bravissima racconta e dici ancora perché magari sei collegato dopo chi sei cosa fai e come mi chiamo Barbara Manoni in arte Venus ho una pagina Facebook che si chiama cartomante Venus e siccome mi piace complicarmi la vita su Instagram invece mi sono chiamata Venus cartomante quindi al contrario mi occupo di tarologia quindi di lettura dei tarocchi spiego anche i tarocchi tengo lezioni mi occupo di magia in particolare sono appassionata di ritualistica di matrice Yoruba quindi di matrice africana e afro-brasiliana quindi opero in questi settori giusto dirlo non eseguo consulti sulla salute perché per quello ci sono i medici e per questioni deontologiche e non eseguo consulti su minori chiaramente mi capitano le mamme che mi dicono se il figlio sarà promosso e chiaramente rispondo a queste domande ma non chiaramente al minore che mi mi chiama per dirmi guarda vorrei sapere se sono promosso a scuola no chiedi alla mamma se può fare lei un consulto per te quindi potete contattarmi il mio contatto whatsapp è 366 4648 786 lasciando un messaggio con il vostro nome e verrete ricontattati a breve benissimo allora è stato un piacere ti ringrazio venus e alla prossima ciao 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 ciao